no luigi non mollare luigi tentaci tentaci questa è un po cazzata anche qua si va tirata su anche lì si qua dobbiamo passare di lì aspetta questa è verde però bisogna andare giù qua star giù star su star giù perché sopra la c'è no sopra quel sasso lì giù e stringere giù e stringere comunque con l'uscita la ma qua devi stare sopra e lì devi stare sopra sopra di lì poi giù di qui si lì è bianca ecco io e questa qua è bella è bella impestata bianco destra giallo sinistra e poi qua così c'è un po di curve mi sa che ti conviene vederla e scendere lì e si giù e su entra qua dentro nel canale che vengo a basso tiene la sinistra poi deve scendere giù a destra risalire a sinistra riscendere a destra uno una 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 ệt